In riferimento alle notizie dei giorni scorsi sulle graduatorie di ammissione al servizio di asilo nido per l'anno 2017-18, il Comune di Riva del Garda ha inviato una nota dicendo che la situazione di criticità descritta, derivata da una semplice comparazione tra posti disponibili e domande pervenute, non esiste. I posti messi a disposizione sono commisurati alla stima della reale richiesta, la quale non è rappresentata dalle domande che ogni anno l'amministrazione riceve, infatti è abituale la prassi di inoltrare in via esplorativa varie domande per il proprio bambino salvo poi decidere se e dove effettivamente destinarlo e nemmeno dalle domande inserite in graduatoria che contengono anche domande in transito dall'anno precedente, cioè di soggetti che hanno chiesto il rinvio, ma dal pregresso, da anni infatti e oltretutto stante un trend di diminuzione delle richieste, tutte le domande reali, cioè quelle che sono confermate alla fine, trovano risposta. Se così non fosse, l'amministrazione comunale si attiverebbe per incrementare l'offerta. Gli uffici comunali di Riva inoltre fanno notare come la comparazione tra la situazione di Riva del Garda e quella di Arco, proposta dalla stampa, non sia percorribile, viste le notevoli differenze. A quasi parità di numero di residenti, infatti, Arco offre un totale di 85 posti a fronte di 179 richiedenti, mentre a Riva del Garda offre un totale di 120 posti a fronte di 112 richiedenti, di cui 105 residenti a Riva del Garda e 7 a Nagotorbole.